Tutti i nostri tutorial sono audio descritti. In descrizione trovi il link all'articolo su Urbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video. Nello sfondo di questo video tutorial, tranne quando vengono spiegate le operazioni sullo schermo, c'è una immagine che raffigura un MacBook Air con lo schermo aperto, dove è visibile la schermata dell'applicazione QuickTime Player. A sinistra della tastiera, sul suo treppiedi, c'è un microfono con l'ortici 30, mentre a destra un iPhone 13 Pro. Buongiorno a tutti cari amici di Urbolandia da Filippo De Santis. Oggi sono qui con voi per vedere quali sono gli strumenti e i dispositivi per poter realizzare registrazioni audio o audio-video simili a questa che state vedendo. Allora, vi dico subito che non c'è bisogno di alcuna strumentazione speciale. Allora, io inizialmente utilizzavo esclusivamente il mio Mac, un MacBook e nient'altro. Poi nel tempo ho aggiunto a questo dispositivo un microfono esterno, ma andiamo per gradi e vediamo. Allora, per quanto riguarda il Mac, potete utilizzare qualsiasi tipo di Mac, dal MacBook sia di tipo Pro, così come i Mac fissi e quindi l'iMac. La mia dotazione attuale è un MacBook Air con chip M1, quindi modello 2020, con sistema operativo OS Ventura, aggiornato all'ultima versione. Per quanto riguarda i software da utilizzare, niente di particolare anche qui. Utilizzo QuickTime Player che non è solo un player ma anche un registratore. Infatti con questa applicazione potete realizzare sia registrazioni audio, solo audio, sia registrazioni audio-video tramite la telecamera, la fotocamera integrata nel vostro Mac. Oppure le cosiddette registrazioni dello schermo. Registrazione schermo, ovvero viene mostrato appunto quel che è presente sullo schermo, un po' come sta avvenendo in questo momento. Vi ho detto prima che non ho, diciamo, non utilizzo più il Mac da solo ma in aggiunta a un microfono esterno. Perché? Perché nel mio MacBook, cioè nei portatili, il microfono da cui appunto viene registrata la voce, tramite cui viene registrata la voce, è presente sullo chassis del Mac in prossimità della tastiera. Per cui quando viene toccata la tastiera, soprattutto in certe posizioni con le dita, si sentirebbe il frusciare, diciamo lo strusciare delle mani vicino in prossimità del microfono. E poi vi farò ascoltare questa cosa perché vi farò ascoltare la differenza tra la registrazione con questo microfono e il microfono integrato. Vi dico che a livello qualitativo è identica la cosa. Torno a ripetere, c'è soltanto questa particolarità dell'evitare che il toccare appunto la tastiera, diciamo, riprodurrebbe un suono di fruscio, di strusciamento dovuto appunto allo strusciamento sul microfono. Ma oltre a questo tipo di microfono, cioè quello integrato a questo microfono esterno che sto utilizzando io, possiamo utilizzare anche il microfono del nostro iPhone collegato Bluetooth tramite l'ID Apple, utilizzando lo stesso e quindi diciamo un microfono volante per così dire. Tra l'altro con l'iPhone possiamo utilizzare anche la telecamera e quindi fare delle registrazioni in movimento, cioè muovendoci e l'importante è che dobbiamo stare a una distanza tale da potersi connettere i due dispositivi tra loro. Ma che tipo di microfono sto utilizzando io in questo momento? Questo è un microfono appunto esterno collegato tramite porta USB, è un Tonor TC30 acquistabile su Amazon tramite il link presente in descrizione. È un microfono cardioide con condensatore, a parte queste particolarità è un microfono diciamo abbastanza semplice, anche economico e diciamo ha un cavalletto, un treppiedi che permette appunto di poterlo posizionare a fianco a noi, a fianco al nostro Mac per poterlo avere proprio di fronte. Ha un filtro cosiddetto pop, quindi una retina, un veletto, anzi un doppio veletto che impedisce al microfono di percepire l'uscita di aria dalla nostra bocca quando pronunciamo alcune lettere come per esempio la P. In questo caso si sarebbe sentito proprio un suono molto forte e spesso fastidioso. Quindi è un microfono, torno a ripetere, molto molto performante ma nello stesso tempo economico. Allora detto questo andiamo a vedere insieme come regolare il diciamo i volumi di entrata e di uscita. Partiamo da quelli di uscita ovvero degli altoparlanti. Dovrete fare delle prove così come ho fatto io. Io per poter stabilire che per esempio nelle registrazioni schermo il volume di uscita degli altoparlanti fosse quello che ho impostato in questo momento ho fatto diverse registrazioni. Ogni volta dicevo che so registrazione a volume x e oppure a volume y e via dicendo e quindi nel momento in cui ho stabilito che quello era il volume ideale per me ho impostato ogni volta quello e lo posso impostare facilmente tramite Siri. Come? Tramite il comando da tastiera per invocare Siri. Io nel mio caso per invocare Siri devo schiacciare con il mio Mac ma l'ho impostato io questo il tasto FN e la barra spaziatrice e poi do il comando di imposta volume e gli do il numero che so 50 80 100 70 e quant'altro. Vi dico in anticipo che il mio il volume di uscita delle dei miei altoparlanti sul Mac è del di 80 dell'80 per cento e invece il volume di ingresso del microfono è al 50 per cento che è quello di default. Allora sentite adesso impostiamo il volume di uscita degli altoparlanti invece che all'80 per cento come adesso lo impostiamo al cento per cento. Imposta volume 100. Ok ho modificato il volume. Ok e questo è quanto diciamo impostato. Adesso impostiamo il volume più basso lo portiamo al 50 per cento. Imposta volume 50. Ok ho modificato il volume. Come avete potuto notare il volume si è notevolmente abbassato quindi voi fate diverse prove quindi poi stabilirete il volume che vi serve. Questo naturalmente questo volume che ho impostato adesso serve per poter registrare in maniera adeguata il volume di voiceover quando facciamo le registrazioni schermo. Adesso riportiamo il volume a la condizione diciamo prestabilita da me. Imposta volume 80. Ok ho modificato il volume. Ok e quindi abbiamo riportato il tutto alle condizioni iniziali. Adesso vediamo come impostare il livello di volume della registrazione quindi il livello di volume del microfono. Allora per fare questo dobbiamo aprire impostazioni di sistema. Se avete una versione precedente a quella di ventura cioè del sistema operativo diciamo si chiamano preferenze di sistema e non impostazioni di sistema. Ma comunque a parte il nome e diciamo un po' la disposizione vi faccio vedere come fare. Allora intanto con l'abbreviazione tastiera vm apriamo la barra dei menu. barra dei menu apple. Poi scendiamo giù con vo frecciaggiù fino a impostazioni di sistema. Apple menu informazioni su quei impostazioni di sistema illisse. Apro con vo barra spazio. Impostazioni di sistema. Aspetto finestra. Tabella. Aspetto. Selezionato al punto focale della tastiera. Allora stiamo sull'impostazione dell'aspetto del mio Mac. Dobbiamo andare nella voce suono o suoni o meglio e la possiamo fare rapidissimamente digitando le lettere S e la lettera S di Savone e U di Udine per suoni e ci posizionerà su questa categoria. sentite? Suono. Adesso stiamo nella barra di sinistra dove ci sono elencate tutte le categorie che potremmo andare a impostare. Con vo freccia destra andiamo nella barra nell'area di scorrimento in questo caso di suoni. Verticale divisore. Suono. Area di scorrimento. Ecco qui. Adesso con il comando di interazione quindi vo shift freccia giù interagiamo con quest'area. In suono. Area di scorrimento. 26 elementi. Intestazione. Effetti sonori. Ci ha detto che ci sono 26 elementi, che questa è un'intestazione. Perché ce l'ha detto questo? Perché possiamo spostarci tra le varie intestazioni un po' come ci spostiamo per intestazioni tra le varie voci, tra le varie intestazioni di una pagina web. In questo caso utilizzerò lo stesso comando quindi vo command h. In pratica utilizzerò i tre tasti command ctrl option oppure possiamo in alternativa usare il tasto blocco maiuscole, il tasto command, questi due soli tasti e la lettera h. Comunque indipendentemente dalla vostra scelta sentite io utilizzo command ctrl option e la lettera h. E sentite cosa ci dice? Intestazione uscita ingresso. Intestazione uscita ingresso. Praticamente stiamo sulle uscite e l'ingresso per poter regolare questa caratteristica. Adesso ci muoviamo con vo freccia destra e andiamo nelle varie opzioni da poter modificare. Uscita pannello. Allora ci sono due pannelli, il pannello uscita che sono quelle relative agli altoparlanti, quelle che abbiamo regolato prima e poi abbiamo ingresso selezionato pannello. Il pannello ingresso, quindi quello dei microfoni, che è già selezionato. Se non fosse selezionato con vo barra spazio selezioniamo questo pannello e poi ci continuiamo a muovere con vo freccia destra. Tabella. Tonor TC30 audio device. Selezionato. USB. Selezionato. Selezionato. Allora, ci siamo posizionati sulla tabella dei dispositivi collegati al mio Mac in questo momento e ci ha detto che il Tonor TC30 è selezionato. Adesso interagiamo con la tabella, quindi vo shift freccia giù. In tabella. Tonor TC30 audio device. Selezionato. USB. Selezionato. Selezionato nome. Tonor TC30 audio device. Selezionato. Tutti i dispositivi in questa tabella sono ordinati in ordine alfabetico. Allora, andiamo verso l'alto, quindi con vo freccia su. Microfono di iPhone 13 Pro di Filippo. Eccolo qui, microfono dell'iPhone, del mio iPhone. Andiamo su ancora con vo freccia su. Microfono MacBook Air. Microfono MacBook Air. Questi due non sono selezionati, altrimenti ci avrebbe detto come nell'ultimo. Sentite, ritorno giù con vo freccia giù. Microfono Tonor TC30 audio device. Selezionato. Ci direbbe selezionato, quindi il microfono che stiamo utilizzando in questo momento è questo. Allora, quindi ci dice che tipo di nome del microfono, ma ci dice anche altro. Allora, andiamo su, torniamo su al primo, al microfono integrato MacBook Air. Allora, vo freccia su. Microfono MacBook Air. Allora, qua ci ha detto il nome. Con vo freccia a destra, sentite. Tipo integrato. Tipo integrato, quindi è il microfono che sta all'interno del Mac. Scendiamo giù e quindi andiamo alla riga relativa al microfono dell'iPhone. Fotocamera continuiti. Ci dice che il tipo di microfono, sentite, vado con vo freccia a sinistra. Nome. Microfono di iPhone 13 Pro di Filippo. Microfono di iPhone 13 Pro di Filippo, che è un microfono tipo fotocamera continuiti. Fotogram, fotocamera continuiti. Perché con l'iPhone collegato con lo stesso i di Apple al nostro Mac, possiamo utilizzare sia il microfono da solo, sia la fotocamera. E quindi fare delle riprese, diciamo, muovendoci pure. Cosa che non sarebbe possibile utilizzando la telecamera, fotocamera del Mac, che sarebbe fissa. Poi, torniamo indietro, scusate, scendiamo giù. USB. Allora. Tonor TC 30 Audio Device. Selezionato. Tonor TC. Sentite che ingresso ha. Tipo USB. Selezionato. È con ingresso USB. È, diciamo, tramite porta USB. Allora. Usciamo dalla tabella. Questo era per farvi vedere i dispositivi, in questo momento, collegati al mio Mac. Vo, shift, freccia su. Fuori da tabella. E poi ci muoviamo verso, diciamo, l'area di regolazione dell'ingresso. Vi dico, ci sono due pulsanti e un cursore di regolazione. I due pulsanti sono uno alla sinistra. Al centro c'è il cursore di regolazione. E a destra c'è il pulsante per l'altro pulsante di regolazione. Il pulsante a sinistra è il pulsante di abbassamento del volume. Cioè l'abbassa. Noi ogni volta che dovessimo fare Vo barra spazzolo, lo abbasserà di un X valore. La stessa cosa avverrà con il pulsante di destra. Al centro possiamo regolare esattamente il volume d'ingresso del nostro microfono. Allora, sentite. Il volume d'ingresso. Questo è il titolo della regolazione. Abbassa il volume d'ingresso. Pulsante. Abbassa il volume d'ingresso. Pulsante. Quindi se noi adesso facessimo Vo barra spazio andremmo a abbassarlo. Ma io vi voglio prima far ascoltare a che livello stiamo. Al centro, dicevo, c'è il cursore di regolazione. 50%. Volume d'ingresso. Cursore. Mi sto muovendo con Vo freccia a destra. Quindi stiamo al 50%. Vo freccia a destra. Alza il volume d'ingresso. Pulsante. Alza il volume d'ingresso pulsante. E lo facciamo da qui. Vo barra spazio. Non ci ha detto quant'è. Ma se noi torniamo indietro adesso. 60%. Ci ha detto. Volume d'ingresso pulsante. 60%. L'ha aumentato di 10%. Adesso se andiamo. Abbasso il volume d'ingresso pulsante. Abbasso il volume d'ingresso. Faccio Vo spazio. Non ci dice il volume, il valore a cui l'ha portato. Dobbiamo andare per forza nel cursore. 50%. L'ha riportata al 50%. Volume d'ingresso pulsante. Adesso invece. 50%. Vi faccio vedere come poterlo regolare in maniera per così dire manuale il volume d'ingresso. Dobbiamo interagire con il cursore. Quindi Vo shift freccia giù. In cursore. Ci dice in cursore. Significa che siamo collegati o comunque all'interno del cursore. Con Vo freccia destra o sinistra regoliamo questo valore. Se con Vo freccia sinistra lo diminuiamo, con Vo freccia destra lo aumentiamo. Allora andiamo a diminuirlo. Vo freccia sinistra. 40%. 40%. 30%. 30%. Adesso il volume d'ingresso l'abbiamo abbassato. Voi state sentendo un volume di registrazione più basso. Purtroppo non c'è un feedback. Io che sto registrando non mi sto rendendo conto di quanto si è abbassato. Quindi lo riporto al 50%. 40%. 50%. In modo tale che non ci siano, come dire, confusioni. Allora, dicevo, voi per regolare il vostro livello di ingresso del microfono non dovete fare altro che fare delle prove. E quindi registrare, che so, al 50% nel file di prova di rete, che so, volume di registrazione il 50%, poi lo imposterete, che so, al 60% e direte volume di registrazione al 60% fino a che non troverete il, diciamo, farete tutte le prove possibili, riascolterete la registrazione e quella che vi sembrerà più idonea la utilizzerete. Utilizzerete quel volume di ingresso, nonché di uscita degli altoparlanti, come vi ho detto prima, per poter poi fare delle registrazioni ottimali per voi. Adesso l'abbiamo lasciato al 50%, usciamo dal, anzi, andiamo avanti perché vi faccio ascoltare che non ci sono altre regolazioni da poter fare. 60%, 50%, usciamo dall'interazione, fuori dal cursore, e poi ci muoviamo con V a freccia destra, e questo era l'ultimo pulsante per, diciamo, per quanto riguarda questa funzionalità di regolazione dei livelli di ingresso, in questo caso quindi del microfono. Allora, fatto questo, io voglio farvi ascoltare la differenza di registrazione che si ha tra il microfono, in questo caso quello che sto registrando, il Tonor TC, quindi un microfono esterno, e quello che sarà il, diciamo, nella registrazione che verrà subito dopo, con il microfono integrato del mio MacBook Air, e con il microfono integrato dell'iPhone. Allora, chiudiamo la, diciamo, le impostazioni di sistema, quindi Command Q. E poi, io adesso interrompo la registrazione con questo microfono, e poi passerò all'altro microfono. Ecco, questo invece è il microfono integrato del mio MacBook Air. Allora, come vi ho detto all'inizio di questo video, di questo tutorial, vi ho detto che toccando la tastiera, si sarebbero sentiti dei, diciamo, dei frusci, è quello che forse state ascoltando in questo momento. Considerate che il microfono, io sto toccando la tastiera in prossimità, la tastiera in prossimità dello chassis, quindi molto probabilmente state ascoltando dei frusci dovuti appunto allo sfregamento, cioè il fatto che io tocco con le mie dita la tastiera. Tuttavia, a parte questo inconveniente, potete sentire quale qualità abbia questo microfono, il microfono integrato del mio MacBook Air. E adesso, a parte questo, vi farò ascoltare anche la qualità microfonica, la qualità della la registrazione audio, tramite il microfono sull'iPhone. E ecco qui, questa è la registrazione invece tramite il microfono del mio iPhone 13 Pro. Allora, vi faccio ascoltare, adesso mi alzo dalla mia postazione, posso, ecco, muovermi nella stanza dove sono in questo momento, vado da un'altra parte, come sentite, immagino la voce la sentite diciamo sempre vicina, nel senso perché ho il mio iPhone a portata per così dire di bocca. Io adesso mi rimetto seduto e vado diciamo a interrompere questa registrazione per poter come dire, riprendere con le impostazioni che c'erano inizialmente. Ecco, siamo tornati alla configurazione con cui siamo partiti, ovvero il microfono esterno Tonor TC30. E quindi, io, diciamo, arrivato a questo punto vi saluto perché credo vi abbia dato tutte le informazioni possibili per poter realizzare, come avete chiesto, delle registrazioni audio o audio video, sia con la telecamera integrata e sia, diciamo, le registrazioni schermo. Filippo De Santis per Orbolandia vi saluta e vi do appuntamento ad un prossimo tutorial. In descrizione trovi il link all'articolo su Orbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video. Iscriviti qui di seguito sul nostro canale per essere avvisato in tempo utile quando pubblichiamo nuovi contributi. Iscriviti qui al nostro canale per essere avvisato in tempo utile quando pubblichiamo